Maria De Filippi, cari amici, fa la dura, avverte gli studenti e lo fa nel modo più serio possibile, cioè gli lancia proprio un ultimatum. Sono giorni pieni per i nuovi allievi della scuola e non mancano sicuramente i colpi di scena, come ad esempio la decisione di Emanuello e Raimondo Todaro di dare un voto scarso al ballerino Ramon, di cui ne avevamo già parlato anche ieri. Nel dettaglio Ramon, che è un ballerino classico, ha scoperto che se la sua entrata se l'è meritata grazie a un 8 della Celentano, che è un voto altissimo, Todaro e Lo gli hanno rifilato rispettivamente un 5 e un 4, che non è la sufficienza, è molto meno della sufficienza, soprattutto il 4. E infatti il commento è stato d'obbligo, tipo, non me l'aspettavo, ero abbastanza convinto di essere tra i primi. La prima cosa che mi è venuta in mente, ok, non è nel loro stile la danza classica sicuramente, poi comunque mi sono presentato con un certo repertorio e questa cosa mi ha penalizzato. Non rientra nel loro gusto e quindi è normale che loro scelgano più una persona che balli hip hop o latino che sia. Non lo trovo molto professionale onestamente, ci devono essere delle motivazioni solide e intelligenti. Opinione, signori, che sembra essere condivisa anche dai fan sul web che hanno sparato a zero. Tra i tanti punti c'è stato anche il ritorno di Mattia Zenzola e a supporto del giovane è arrivato, fra i tanti altri, il messaggio di incoraggiamento di Cristian Stefanelli, che gli dice proprio sei maturato, sei cresciuto, hai fatto tantissimi progressi e infatti si vede perché ti sei impegnato senza perdere mai l'obiettivo che avevi in mente, hai avuto costanza nel fare ciò che ami senza arrenderti mai, anche là dove invece si prospettava un ostacolo. Sei tornato il più forte di prima, con tante consapevolezze su te stesso, dove sarai capace di superare tutto ciò che il percorso ti metta davanti. Un percorso che Mattia effettivamente condividerà con tanti amici che Maria De Filippi ha avvertito però. Nell'ultimo day time Maria De Filippi ha voluto mettere le mani avanti e lanciare loro un avvertimento sulla vita in casetta. Sì, bisogna cercare di seguire le regole e per Maria questo è molto importante. Vi prego, ve lo chiedo col cuore, non fate in modo che la produzione arrivi dicendo dobbiamo dare provvedimenti disciplinari perché la casa è totalmente in disordine. Cerchiamo per una volta, almeno una. Dovete rifarvi il letto, farvi da mangiare, eccetera eccetera, perché in realtà ci sono tantissime cose da fare. Così, mentre sale l'attesa per la seconda puntata di Amici, tra gli ospiti Anna-Lisa, ex allieva del talent show, oggi cantante di successo, e anche Ornella Vanoni, chiamata a giudicare i giovani talenti per la classifica canto. Insomma, tutto questo e altro lo si vedrà già dalla seconda puntata in poi. Questo per ora è tutto per questa news, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!